Il servizio di trasporto sociale Il servizio di trasporto sociale Il servizio di trasporto sociale Dei nostri cittadini La necessità di arrivare velocemente A quel momento Con risorse nuove Aggiuntive per gli enti locali E con delle linee guida Che regino un livello di omogeneità Su tutto il territorio della nostra regione L'atto impegna così la Giunta A riferire alla Commissione Consiliare A conclusione delle due fasi di sperimentazione Nella prima prevista il prossimo 30 settembre La seconda nel luglio del 2024 A quel punto ci sarà il risultato Che un cittadino Che non ha un problema sanitario Per il quale deve essere trasportato Ma che deve recarsi in un luogo di cura E non ha la macchina Perché è anziano È una persona sola In questi casi non si tratta Di trasporto sanitario Ma sociale Però è un bisogno a cui dare risposta E quindi ci sarà un sistema Organizzato diversamente Con il coinvolgimento Anche dell'associazione volontariato Sfruttando in particolar modo Anche il tema della coprogettazione E coprogrammazione Che permetterà di articolare Anche tenendo conto Il servizio Anche tenendo conto Delle specificità del territorio Come detto La risoluzione passa con voto unanime Dopo un lavoro di sintesi Adesso verificheremo il percorso Dice la Lega Ora vedremo Ci saranno degli step di verifica Di quanto è stato fatto e detto Certo è che Al di là del problema economico E quindi di andare incontro A coloro che In qualche modo Hanno difficoltà economiche Il problema è gente Che può avere difficoltà economiche Ma soprattutto che sta male Cioè gli oncologici È ovvio che devono avere Una priorità Al di là Di quella che è La loro situazione economica E dovrebbero essere Privilegiati E comunque Dovrebbero avere Una via preferenziale Attenzione Sottolinea Fratelli d'Italia Anche alle persone Con disabilità In modo particolare Anche Le persone con disabilità Perché nel frattempo Gli uffici Dopo la riforma Della giunta Dell'ottobre scorso Avevano scritto Anche all'associazione Nel volontariato Anticipando che I nuovi criteri Sarebbero stati applicati Anche per le persone disabili Ovvero Si passava Da una sostanziale Gratuità per tutti A pagare praticamente tutti Salvo che loro avevano Un'ISEE inferiore A 9.000 euro Il che Evidentemente Parlava da solo La giunta Ha avvarato Una sperimentazione Che nei primi mesi Ci ha dato ragione Cioè ha dimostrato Che erano pochissime Le famiglie Riuscivano ad accedere Al nuovo sistema E quindi c'è stato Un accordo Che si è trasformato In un documento unitario Che oggi abbiamo votato E che rispetto A un ulteriore periodo Di sperimentazione Chiede di fare chiarezza Non soltanto sui numeri Sulla qualità del servizio Ma anche sui soldi Che eventualmente Le zone di stretto E le società della salute Dovranno mettere in campo Per far fronte Al trasporto Di queste persone Una mozione presentata Dalla PD Tocca il tema Delle adozioni E chiede Una modifica Alla legge nazionale Il documento Che passa a maggioranza Chiede alla giunta Di attivarsi Presso governo E parlamento Per prevedere La possibilità Di adozione legittimante Per tutte quelle persone Che a prescindere Dall'essere in coppia O singole E dal loro sesso Possano garantire Capacità genitoriale Stabilità E accoglienza E' un testo Che parte Da un punto centrale Che è quello Della condizione Della condizione del bambino In Italia La legge sulle adozioni Modificata nel 2001 Ma è del 1983 Prevede che ad esempio Per i single Siano consentite adozioni Solo per casi Espressamente definiti Come disabilità grave Minorazione Minorazione psichica E quindi C'è un'adozione Che non viene definita Come legittimante Ma come sussidiaria Noi partiamo dal centro Che è quello Dell'amore verso il bambino E secondo noi Visto che Anche gli esempi Visti gli esempi Dei maggiori paesi europei Chiediamo In quella impegnativa Che la giunta regionale Si attivi Presso il governo Per E presso il Parlamento Per dare seguito A questo A questo nostro atto Che vuole Ampliare la platea Dare condizioni Di uguaglianza Perché Oggi Ad esempio La cittadinanza italiana Per un'adozione Cosiddetta sussidiaria È un percorso Molto diverso Da quello Per l'adozione Legittimante E quindi Anche tutte le adozioni Internazionali Che vengono fatte Perché in altri paesi Si possono fare Da parte di persone Single Non possono essere Considerate Allo stesso modo Rispetto alle adozioni Cosiddette canoniche Quelle cosiddette Regolari O legittimanti Questo è Secondo noi Un vulnus Ed è una Lacuna Della legge Che risente Secondo noi Di un tempo Nel quale è stata scritta E oggi Va Migliorata Profondamente Un tema serio E delicato Per Lega E Fratelli d'Italia Che avevano chiesto Di rinviare La discussione In commissione Il vero Primo obiettivo Dice Torselli È superare La burocrazia Poter Adottare Le decine Le centinaia Di migliaia Di bambini Già nati Che oggi Non possono essere adottati Per colpa Della burocrazia La mozione Di oggi Era altro Era un put purri In cui all'interno C'era anche questo principio Condivisibile Ma si faceva altro Si parlava del tema Delle adozioni Dei single Che è un altro tema Importante Perché io non sono Ideologicamente contrario Al fatto Che un single Non possa Adottare un figlio Perché probabilmente Ci sono single In Italia In grado di dare A un bambino Preso in adozione Una vita Mille volte Più dignitosa Di quella che farebbe Senza avere un'adozione Alle spalle Ma quella mozione Lì era altro Era una mozione Ideologica Che serviva A portare sul tema Sul tavolo del dibattito Il tema dell'adozione Da parte delle coppie Omosessuali Che è il terzo tema È un tema ancora Allora noi non ci sottraiamo Al dibattito Si può parlare Tutte e tre i temi Ma non si provi Ad utilizzare Il tema delle adozioni Che è un tema serio Per parlare Di adozioni Per le coppie Omosessuali Sono due temi differenti Si può dibattere Su tutte e due Questa era una mozione Che si fingeva Una mozione Per garantire Un percorso Di adozione Più facile Ma in realtà Serviva a dire Grazie al partito Democratico Apriamo alle adozioni Da parte delle coppie Gay Motivo per il quale Fratelli di Salli Ha votato contrario Quale è futuro Per il Pecci di Prato Il centro Per l'arte Contemporanea Dopo l'annuncio Di due licenziamenti Per altrettanti Dipendenti Della struttura museale Il tema Arriva in consiglio Regionale Il presidente Della regione Eugenio Gianni Risponde All'interrogazione Presentata Dalla consigliera Della Lega Luciana Bartolini Il Pecci Non riguarda Solo Prato Riguarda Tutta l'arte Contemporanea Della Toscana Vive Di soldi pubblici Del comune Un milione e due L'anno La regione Circa 6-700 Fino a 800 mila euro L'anno E quindi Sono soldi pubblici Vanno gestiti Nel modo giusto Il problema Dei due licenziamenti Ha fatto scoperchiare Un po' Tutte le problematiche Che c'erano sotto E quindi Stanno venendo Un po' A galla Il Presidente Gianni Ci ha detto Un consiglio Che ci saranno Degli incontri A breve Tra lui E il sindaco Di Prato E poi anche Con il consiglio D'amministrazione Che però È già Credo sia già scaduto Debba essere rinnovato E io spero Che verrà rinnovato Con buon senso Perché ci vuole Una persona Ci vuole Delle persone Che sanno Gestire Questi luoghi Altrimenti Diventano luoghi Dove i soldi Si sperperano Per il PD Interviene La consigliera Ilaria Bugetti Non ero a conoscenza Del licenziamento E ho subito detto Che la scelta È sbagliata Né io Né il sindaco Di Prato Matteo Biffoni Nello stesso Presidente Gianni Eravamo stati informati Preventivamente Quindi l'ho saputo Dal comune E dai sindacati E ho avuto modo Di stigmatizzare Poiché in un regime Specialmente di prorogazio Come siamo in questo momento È assolutamente Inconcepibile Si cercano modalità Per accompagnare Per sostenere i lavoratori E si cercano anche progetti In Regione Toscana Chiedendo quali siano le forme Per cercare di non mandare via nessuno Questo secondo me Deve essere la priorità Soprattutto in un'istituzione pubblica Quale futuro allora Per il PECC È un tema di risorse Di gestione? La Regione partecipa Mette tante risorse Come ho già detto Il PECC È stato quello Che ha ricevuto Il minor taglio Rispetto a tagli Che sono stati fatte Dalla Regione Toscana Per purtroppo esigenze Di bilancio Però è stato quello A cui è stato tagliato Meno di tutti Quindi questo vuol dire Che c'è Un'importanza E una centralità Di questo museo All'interno Della Regione Toscana Quindi bisogna mettersi tutti insieme Perché non basta un centro Non basta un bravo dirigente Non basta un bravo direttore Ma ci vuole che tutte le forze Che stanno intorno a questo museo Si mettano insieme E ne creino il rilancio In primis L'opinione pubblica È quindi un appello Perché si vada al PECC E perché si valorizzi Questa importante istituzione Raccontare il sistema sangue in Toscana La giornata di riflessione Promossa dal Consiglio regionale Con l'Avis regionale E l'Ordine dei giornalisti Della Toscana Il corso di formazione Tra etica, fake news E informazioni scientifiche Ha offerto gli strumenti Per comprendere Il funzionamento Del complesso meccanismo Che tiene insieme La macchina della solidarietà Legata alle donazioni di sangue A quello del sistema sanitario Alla fine donare il sangue È la cosa più semplice Perché i donatori Come dire Danno il braccio E donano il sangue Però dietro C'è tutto un mondo C'è la regione Con il centro regionale sangue Ci sono le ASL Con i vari centri Trasfusionali Tra l'altro in Toscana Sono tutti centri pubblici Abbiamo una rete Di centri pubblici Negli ospedali Quindi ci sono i medici Gli infermieri E poi ci sono le associazioni Di donatori Tra cui Avis Ma ce ne sono anche altre Che promuovono La donazione di sangue e plasma E fanno sì che insomma Quando c'è bisogno Di un particolare gruppo sanguigno Quando c'è una necessità specifica I donatori Siano sempre pronti Per un sistema sicuro E di qualità Per il paziente Che poi alla fine È quello che noi abbiamo In mente E nel cuore Quando facciamo Il nostro gesto di donazione A portare i saluti Dell'Assemblea legislativa Il vicepresidente Stefano Scaramelli Un modello efficiente All'avanguardia Che però ha bisogno Ovviamente Della donazione Delle volontarie E per questo C'è un lavoro straordinario Che fanno le associazioni Di volontariato E poi c'è nel contempo Un'attività di formazione Per tutto il mondo giornalistico E questo è un elemento Importante Di novità Di diversificazione Delle tematiche Con le quali I giornalisti stessi E non solo Devono acquisire conoscenze Possono E credo questo sia Una Comunione di intenti Perché si può anche A sua volta Divulgare questo livello Di conoscenza I giornalisti Hanno una funzione Straordinaria Nella società E quindi duplicare Questa funzione Una giornata come questa Per me così sensibile Al tema Della donazione del sangue Essendo stato da sindaco Il primo sindaco In Toscana Presentai a Palazzo Vecchio Il progetto Per il quale Si potevano donare Anche gli organi Rispetto alla carta Nel rifacimento Della carta di identità Fu un percorso importante Donazione di organi Donazione di sangue Sono due elementi Che distinguono La dimensione Della qualità Delle donazioni Che uno può fare Perché le va a fare Verso persone Che magari non conosce Quindi quando si dona Il sangue Si dona Gli organi Sono cose molto importanti Perché tu le fai Come gesto di altruismo Indipendentemente Della persona Che può ricevere Quel beneficio Quello beneficio